Ciao amici di Pantofish, oggi andremo a recensire una nuova canna entrata nel nostro team, che è la Molex Scrimigian Predator Hunter, esattamente nella grammatura 10-35, 7 piedi e 9, 236 cm. Viene venduta in questo comodo packaging, si presenta come una a due pezzi. È circa un mese che utilizzo questa canna, l'abbiamo utilizzata in più contesti, in diverse situazioni. Vi posso dire che come canna si presenta davvero bene, ha un'ottima schiena, ma malgrado questo riesce ad avere anche un'incredibile sensibilità. Canna che mira sia le tecniche saltwater che freshwater, noi principalmente la doperiamo nel saltwater, nella pesca dalla barca e nella pesca dalla riva. Si è dimostrata davvero fruttuosa e incredibile nei combattimenti, anche con i predatori più combattivi, come possono essere tombarelli, alletterati, pesci serra. Anche se è una canna che si dimostra davvero, davvero utile contro il predatore principale, che è la spigola. Noi abbiamo scelto di unirla a un mulinello, il Daiwa VG Magseild, che ora vi mostreremo. Il mulinello abbinato alla Spinigen è il BG Magseild. Un ottimo mulinello, un mulinello che è davvero incredibile per le dimensioni, che ha un mulinello oltretutto mirato proprio allo spinning. Con un drag massimo di 7 kg, un rapporto di recupero 5-6 a 1 e imbobbina circa 95 cm di nylon ogni giro di manovella. La capienza è di 0,19-260 metri. Come per la canna, l'abbiamo utilizzato su vari predatori e vi posso dire che è risultato un ottimo mulinello, specialmente nel Saltwater, dato la sua schermatura con il fluido ferromagnetico della Daiwa. Ed è risultato davvero, davvero ottimo. Un mulinello molto, molto scorrevole. E' abbinato anche all'antiritorno infinito. E' un scatto dell'archetto automatico, quindi per canne che mirano alla X-Spinning. Oltretutto incredibilmente leggero. Personalmente ve lo consiglio in maniera molto particolare. E' supportato anche da 6 cuscinetti più 1. E' oltretutto grande vantaggio per la fascia di prezzo alla quale si aggira, che ha la manetta direttamente avvitata sul corpo. Questo è quanto amici pescatori, vi auguro un buon mare a tutti e spero che la recensione mi piaccia. Ciao!